Per Hillary Clinton questa prima giornata della Convention Democratica di Filadelfia era cominciata all'insegna della paura. Paura perché c'era stato lo scandalo delle email trafugate da Wikileaks che aveva costretto a licenziare la Cappa del Partito Democratico, una fedelissima di Clinton. C'erano stati i fischi contro Bernie Sanders quando a una manifestazione esterna alla Convention Sanders aveva dato il suo endorsement a Hillary, aveva invitato i suoi seguaci, l'ala di sinistra più radicale, a votare per Hillary. Era stato abbondantemente fischiato e quindi si temeva una Convention nel caos. Un po' di tumulto c'era stato anche all'interno del Palazzo dello Sport, Wells Fargo. Poi però tre big hanno placato il pubblico, hanno placato i 4.700 delegati e poi li hanno conquistati, addirittura entusiasmati. I tre big sono stati nell'ordine Michelle Obama, la first lady, Elizabeth Warren, la senatrice del Massachusetts che è su posizioni altrettanto radicali di Sanders e infine proprio lui, Bernie Sanders. Michelle Obama ha fatto un discorso bellissimo, molto umano, molto centrato sulle figlie, le sue figlie e su tutti i figli d'America cui bisogna garantire un futuro che non sia quella società impaurita, divisa, lacerata che dipinge Donald Trump. Elizabeth Warren ha ripreso molti temi di giustizia sociale cari a Bernie Sanders e soprattutto ha attaccato Trump definendolo un impostore, un truffatore. E poi c'è stato Bernie Sanders, leale, ha dato il suo endorsement a Hillary continuando a promettere quella rivoluzione politica che i suoi seguaci vogliono, rivoluzione all'insegna della moralizzazione, della fine del denaro facile che scorre dalle grandi lobby verso le campagne elettorali. E però Bernie Sanders è stato chiarissimo. Io sono orgoglioso di essere qui stasera, sono orgoglioso di appoggiare Hillary Clinton, è il miglior presidente degli Stati Uniti che possiamo eleggere in questo momento. Bernie Sanders è riuscito così a evitare che anche dentro la convention si ripetesse il caos degli urli, dei bui, dei fischi. Alla fine è stato molto convincente, ha elencato anche tutta una serie di convergenze, di punti che lo legano a Hillary Clinton, la lotta al cambiamento climatico, lo smembramento di banche troppo potenti a Wall Street, l'aumento del salario minimo, il diritto allo studio e quindi l'università gratuita per gli studenti meno abbienti. Insomma, alla fine, il Partito Democratico c'è ancora, al suo interno ha una robusta corrente di sinistra che si riconosce in Bernie Sanders, però questo partito stasera è riuscito a celebrare l'unità.